Per la quindicesima giornata, ultima del girone di andata a Castelremondo, si affrontano i locali della Folgore Castelremondo ed il Caldarola. La capolista arriva con tanti assenti e il capitano Nelpiti ha dovuto un po' rimediare la formazione per le squalifiche di Pesaresi, l'assenza di Barucchia, l'arrivo del nuovo attaccante che fin dal primo minuto scende in campo e parlo naturalmente di Fabio Cervelli. Dunque, formazione rimaneggiata, la partita scorre via velocemente, il primo tempo finisce 0-0 nella ripresa, il solito calcio di punizione di Nelpiti, il pallone va in aria, Gentili fa il velo, innamorati da terra, riesce a girare in rete e a concludere sarà il gol della vittoria che consenta alla Caldarola di allungare sulle inseguitrici, dunque termina il girone di andata con più 9 rispetto alla seconda in classifica. Ma ora ascoltiamo le interviste realizzate al termine dell'incontro con il tecnico del Folgore Castelremondo Valentino Amore e il capitano e fra qualche giorno anche allenatore del Caldarola, Massimo Nelpiti, linea Lucio Marco Leoni. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.